La Juve resta in Champions e chi doveva andare via, Pirlo, probabilmente resterà e chi doveva arrestare, Ronaldo, praticamente se ne andrà perché è chiaro che quel trasloco delle auto non era un trasloco fatto così Ronaldo, secondo me, ha già dove andare, se ne vuole andare e io se posso dire da tifoso italiano, del campionato italiano, della Serie A italiana accompagnatelo, accompagnatelo all'aeroporto e si è visto stasera una Juventus, ma non solo stasera, comunque una Juventus senza Ronaldo gioca molto meglio io non so perché è stato messo da parte di Bala, secondo me non è solo Ronaldo che dovrebbe andare via ma anche che ha fatto certe scelte, che ha fatto certe scelte fra Ronaldo, vendiamo di Bala non lo so fino a quel punto ne capisce di calcio guardate, io vi dico una cosa, Ronaldo ha vinto tanto, Ronaldo ha vinto tanto ma non è mai il giocatore che fa vincere la squadra Maradona non ha vinto molto col Napoli, eppure Maradona era il più forte era il più forte di tutti i tempi devi avere la squadra, il Real Madrid vince anche senza Ronaldo il Manchester United vince anche senza Ronaldo quindi questa storia che veniva a Ronaldo e vinceva la Juventus era davvero una cosa, infatti Marotta ruppe con la Juventus proprio per questo motivo perché non aveva senso, non è mai un giocatore questo giocatore è stato 31 milioni, 30 milioni all'anno ma per fare che ragazzi? ma per fare che? ma diciamoci la verità, l'anno scorso lo scudetto lo portò Sarri lo scudetto lo portò di Bala, lo scudetto lo portarono altri è ovvio che Ronaldo segnò pure quest'anno senza Ronaldo, con Ronaldo in campo si stava andando in quinto posto, sesto posto la Juventus senza Ronaldo in campo guardate che ha giocato meglio ma anche quando vince con l'Inter, anche quando vince con l'ultima partita si vedeva che con l'Atalanta in Coppa Italia si vedeva che Ronaldo non c'era la stessa cosa probabilmente non voleva giocare più però non ti prendi 30 milioni se non vuoi giocare più comunque la Juventus rimane in Champions questo significa che è una Juventus è una Juventus che adesso ha un bel po' di punti interrogativi però sai, con la Champions in mano le discuti un po' meglio perché l'altro punto interrogativo è davvero pirlo e c'è un altro punto interrogativo ma ne parliamo adesso di pirlo c'è un altro punto interrogativo che sono ma che deve fare col centrocampo perché la Juventus ha troppe troppe gente di fascia Chiesa, Kuliseschi, Quadrado, Alexandro ma quanti laterali ha? sembra che gioca solo un laterale però questo non è un problema mio assolutamente io da interista provo la Juventus se voi immaginate però ogni tanto mi piace vedere le cose anche dal di fuori ha vinto oggi a Bologna ha vinto facile è passata facile e se l'ha meritato perché ho visto Napoli-Verona e c'è un video mio di vero del Napoli che sta andando non so quante visualizzazioni sta facendo dove sono un po' depresso ma l'ha bruciato il Napoli perché il Napoli doveva vincere quella partita l'ha bruciato davvero il Napoli e via così e la Juventus ha avuto il colpo di coda delle squadre di esperienza il colpo di coda delle società di esperienza ha saputo tenere il timone fermo in un momento in cui era difficile tenere quel timone fermo perché dopo la sconfitta con il Milan era difficilissimo pensare di andare in Champions era difficilissimo pensare ha avuto la virgolette incazzatevi quanto volete Juventini ma ha avuto la fortuna fra virgolette del rigore di Quadrado però a prescindere da quello c'è stato più squadra è stata più società nella volersi prendere questa Champions è stata più presente adesso c'è Paratici che è in scadenza di contratto Ronaldo ripeto che farà Ronaldo? che deve fare Ronaldo? io per il calcio italiano non più per la Juventus per il calcio italiano avere uno che ha sempre lì io non voglio essere sostituito l'anno scorso Sarri fu mandato anche per questo perché lo sostitui cioè ma brutte cose i giocatori così a me non piacciono non sono mai piaciuti non sono mai piaciuti questi giocatori che devono fare le prime donne non mi sono mai piaciute in qualsiasi squadra si trovano la stessa cosa quando io avevo i card in casa la stessa cosa a me non piacciono questi giocatori a me piace la squadra e la Juventus se manda via Ronaldo e questo dove devo preoccuparmi da interista può ritornare a essere una squadra quindi 15, 16, 17, 18 giocatori tutti allo stesso livello perché avere un giocatore che è così fuori livello fuori spogliatoio e questo è Ronaldo dopo gli altri Buffon Bonucci Chiellini Buffon ha già detto ciao ovviamente quindi è inutile parlarne ma secondo me anche gli altri c'è una Juventus un po' più moderna perché il calcio sta cambiando è un calcio strano adesso e la Juventus è figlia di quei nove scudetti ma è di un'altra epoca l'epoca adesso cambierà e io farò tanti video sul calcio mercato credetemi io ho già dato un'occhiata al calcio mercato ho visto anche per la Juventus ho visto per il Milan iscrivetevi se non siete iscritti vedrete tante cose particolari e tante notizie particolari che ci sono in giro vedete il calcio come non l'avete mai visto detto questo comunque la stanchezza c'è ho fatto il video sul Napoli depresso i complimenti al Milan non faccio i complimenti alla Juventus perché non li trovo però oggi la Juventus è in Champions perché si è meritata la Champions questo è il massimo che posso fare non ve la prendete a male ma sono veramente stanco ragazzi iscrivetevi se non siete iscritti commentate mettete like campanella se siete iscritti ciao a tutti ciao ciao